Conciliare la medicina e la chirurgia tradizionale con le nuove tecnologie è la sfida del nuovo umanesimo. Però i medici, soprattutto i più giovani, devono ricordare che al centro di tutto c'è sempre la persona umana e quando terminano le terapie inizia la cura. L'ho detto Mario Ascolese, presidente campano dei Medici Cattolici, nel corso di un convegno dal titolo La formazione del medico nell'era digitale, svolto sia all'Università di Salerno alla presenza tra gli altri di Giuseppe Longo, Attilio Maurano, Antonello Crisci, Vitulia Ivone, Bruno Lavera, Veronica Grippa e Francesco Bellino. L'unica soluzione per avvicinare queste nuove tecnologie che si sono interposte tra medico e cittadino utente, meglio chiamarlo per noi paziente, è che queste tecnologie non offuschino il rapporto che intercorre ed è sempre da sempre intercorso tra medico e fragilità malattia. Qui siamo in una università di tradizione ipocratica e praticamente questa è la culla nella quale praticamente si è coltivata l'umanizzazione della medicina. Non bisogna affidare i pazienti solo alla tecnologia ma bisogna che gli ammalati siano accompagnati, siano curati. Vede il periodo di fragilità per un ammalato è come se lo facesse ritornare bambino e i nostri bambini quando devono attraversare un ostacolo molto impegnativo richiedono di essere condotti a mano. Quello che io riaffermo è che questa mano, questo sostegno, questa avvicinanza sia costantemente presente nel mondo della sofferenza e ovviamente questo stesso approccio sia ben coniugato con le altre tecnologie. Grazie.